Verso una crescita del 5%, ma forse anche oltre, le autorità di Roma sfoderano un evidente ottimismo sull'andamento del PIL 2021 corroborato da buoni dati macro. Il tutto grazie anche alle reti di protezione della BCE, che al momento sembra intenzionata a non toccare la leva monetaria, tenendo il costo del denaro nell'eurozona ai minimi. Ma c'è un'incognita, il riaffacciarsi dell'inflazione a livello globale, che potrebbe spingere le banche centrali a interventi per calmirare l'andamento dei prezzi al consumo post-pandemia. Ma, sostengono gli economisti, l'effetto sarebbe del tutto momentaneo. Mercoledì la Commissione dell'Unione Europea darà le sue pagelle ai partner proprio su crescita e inflazione e il Premier Mario Draghi, pochi giorni fa, sottolineava come le previsioni attuali della Commissione indicano un aumento del PIL quest'anno in Italia e nell'Unione Europea del 4,2%. Credo che queste stime verranno riviste al rialzo, anche in maniera significativa. Stesso scenario tracciato dal custode dei conti, il Ministro dell'Economia Daniele Franco e la crescita potenziale indicata. Il traguardo sembra quindi essere un passo, mentre iniziano ad arrivare i primi fondi del recovery e a marciare le riforme. Banca Italia prevede che l'effetto benefico sulla crescita delle misure previste dal PNRR possa essere di due punti nei prossimi tre anni. In Italia tra i nuovi positivi nell'ultimo mese, 1 su 5 ha meno di 18 anni. Fortunatamente tra gli over 70 la quota si assottiglia sempre più, ora è al 7,6% per effetto delle vaccinazioni che hanno inizialmente protetto di più anziani che hanno un tasso di letalità in caso di contagio più elevato. Nel frattempo l'andamento generale dell'epidemia denota una frenata della discesa del numero dei casi. Ieri sono stati 808,26 in più della domenica precedente, numeri ancora molto bassi, ma il fatto che siano in crescita non è rassicurante, tanto più che il tasso di positività dei tamponi eseguiti è allo 0,57%, mentre il giorno prima era 0,4. In Spagna invece è stata già battezzata variante Fiesta, perché il contagio sta esplodendo tra i più giovani. Se si fa un raffronto, nell'estate 2021 la curva dell'età media dei contagiati va abbassandosi. A marzo era poco sotto i 50 anni, a maggio sopra i 40, e oggi è scesa a 36. Nell'estate 2020 invece si partì dall'età media dei contagiati a marzo a 60 anni, ma allora non c'erano ancora i vaccini, inoltre si facevano i test solo a coloro che sviluppavano i sintomi. A maggio scese a poco sopra i 40 anni, a luglio arrivò attorno ai 36-37 anni, proprio come oggi. Quell'estate in agosto a causa dei focolai nei luoghi di vacanza crollò a 28 anni e in teoria l'andamento potrebbe essere identico anche nelle prossime settimane. I segnali che rimbalzano dalla Spagna, paese non così differente dall'Italia, riaccendono l'allarme, in quasi tutte le regioni, i contagi sono ripartiti tra i giovani. Effetto della variante Delta, molto più trasmissibile, ma anche del ritorno alla vita notturna senza protezioni, ma anche alla ripresa degli spostamenti e dei viaggi. I trasporti sono l'elemento costitutivo del turismo regionale. Con l'ampliamento dell'aeroporto di Ponte Cagnano-Costa da Malfi si avrà una ricaduta molto forte anche sul turismo. Fondamentale è la rete infrastrutturale del territorio, mentre bisognerà sin da subito programmare e garantire una nuova offerta turistica. Lo ha ribadito Felice Casucci, assessore alla semplificazione amministrativa turismo della regione Campania, che stamani nel corso dell'incontro allo Scalo Salernitano ha parlato del progetto di sviluppo della dimensione turistica regionale in fase di elaborazione. I trasporti sono, come diceva il Presidente Vincenzo De Luca, sono un elemento costitutivo del turismo regionale. Quindi evidentemente nel momento in cui si cambia l'organizzazione logistica e l'organizzazione intermodale del trasporto regionale, questo ha una ricaduta sul turismo molto forte. Un turismo senza servizi non è un turismo. Questo è un problema, perché noi in realtà abbiamo vissuto molto di un turismo legato all'iniziativa privata e poco alla regia pubblica. In questo momento stiamo elaborando un progetto di sviluppo della dimensione turistica regionale in maniera molto più coordinata. L'iniziativa legata all'aeroporto di Ponte Cagnano sicuramente fa parte di questa strategia di medio-lungo periodo che dovrà riguardare il turismo regionale campano. Un grande indotto, Napoli, Salerno, ma ciò significa per i turisti avere un'offerta appetibile da qui, la necessità di programmare già da oggi? Sì, noi stiamo programmando, abbiamo fatto una serie di audizioni, abbiamo costituito 15 tavoli, di cui il tavolo per il trasporto turistico. Stiamo per costituirne un sedicesimo sugli itinerari che riguarderanno in particolare le aree interne, il Cilento specificamente, quindi noi abbiamo la necessità di avere un'idea precisa di chi viene, come viene, con quali modalità e soprattutto con quali prospettive. Dobbiamo destagionalizzare, quindi dobbiamo anche pensare a questi trasporti che siano il più possibile funzionali. Ovviamente la logica intermodale è quella che consentirà poi di collegare questo hub con tutte quelle che sono le opportunità a valle. Dobbiamo creare anche delle condizioni che sono legate alla mobilità su gomma e questo è un elemento che poi dovrà portare, dovrà indurre a far muovere i viaggiatori, i turisti verso quelle che sono le aree a grande attrazione territoriale, che non sono solamente quelle salernitane. Questa è un'alternativa importante, importantissima per questo obiettivo. Campania significa anche Basilicata, ovviamente. Campania significa anche Lucania, d'altra parte la Lucania ci ricorda il nostro presidente che ne è originario, che quella è una terra di confine ma anche una terra di grandi opportunità e che ci alimenta molto in prospettiva del turismo regionale. Sono circa 80 i bambini che frequentano per il periodo estivo la struttura di proprietà dell'Arci Confraternita dei Pellegrini. Uno spazio di circa 2700 metri quadrati messi a disposizione dall'ente per i giovani e concesso in comodato d'uso ad Asso Gioca, l'associazione che si occupa di minori a rischio e che è presieduta da Gianfranco Wurzburger. Tra le iniziative da sottolineare è quella che si è svolta con il comandante della Polizia Municipale di Napoli, il generale Cilu Esposito, che con i suoi agenti al Giardino degli Scalzi ha incontrato i giovani ospiti per un corso di educazione stradale, tutti in piazza, musica e legalità ascoltiamo. L'iniziativa di stamattina prelude ad altre attività da fare insieme ai ragazzi ed è importante per due aspetti fondamentali. Il primo è far comprendere ai più piccoli sin dalla più tenera età che chi indossa un uniforme è un loro amico ed è al loro fianco e l'altro è soprattutto l'importanza del rispetto delle regole. Rispetto delle regole che aiuta tutti noi a vivere in modo migliore la nostra collettività. Come ogni anno accogliamo fino a 80 bambini della seconda e terza municipalità. La giornata si svolge appunto con laboratori di musica, laboratori di legalità, giochi d'acqua, giochi didattici. Soprattutto dopo questo periodo di pandemia per loro questa è un'occasione di libertà, di contatto, di compagnia e di rispetto l'un l'altro. Questo che è un centro polivalente importante della nostra città, dico polivalente perché noi siamo sul campo di regmi ma a fianco c'è il Palaparente e poi abbiamo il Bocciodromo. Palaparente è nato nel 1970, Bocciodromo negli anni 94-95 e questo campo di regmi 2004-2005 hanno subito nel 2015 gli effetti negativi dell'alluvione e quindi era scomparso tutto. Fortunatamente grazie ad un finanziamento del CONI, Sport e Salute, che devo dire fu intercettato da quello che allora era l'onorevole Mastella che non pensava neanche minimamente di candidarsi a sindaco, allora come rappresentante nazionale della politica beneventana riuscì ad ottenere una serie di finanziamenti, ricordo varie scuole, anche per queste strutture sportive. Poi neanche a farla apposta i cittadini hanno voluto che a gestire questo finanziamento sia stata proprio l'amministrazione guidata dal sindaco. Per cui come vedete abbiamo un campo di rugby in erba sintetica di ultima generazione, abbiamo creato dei locali per la clubhouse, per una palestra, abbiamo rifatto gli spogliatoi sia quelli per gli atleti che quelli per gli arbitri, che non c'erano chiaramente con tutta l'impiantistica. Lo stesso per quanto riguarda il bocciodromo. In più ci sarà questa illuminazione, anche questa LED di ultima generazione, che fa sì che questo campo, come pensiamo anche la società bocciofila, possano oltre a vedere giocare gli atleti della squadra che ha in gestione il campo, in questo caso parliamo del quarto circo, il rugby, poter organizzare anche i livelli, diciamo incontri di livello nazionale. Rischia di costare carissimo al comune di Avellino e dunque ai cittadini il pasticcio sul mercato bisettimanale. Fermi per un anno e mezzo a causa dei problemi sorti su Campo Genova o Smile Arena, che dir si voglia, gli ambulanti, come annunciato, hanno deciso di mettere nero su bianco la loro richiesta di risarcimento danni per i mancati incassi da inoltrare all'ufficio del sindaco Gianluca Festa. Il conto è a dir poco salato. Ogni commerciante ha calcolato perdite che variano tra i 15 e i 20 mila euro, un numero che moltiplicato per il totale dei ricorrenti, 102 in tutto, tocca la cifra monstra di un milione e mezzo di euro. Una nuova fase storica per il territorio salernitano. Dal prossimo 30 luglio partiranno le opere di allungamento della pista fino a 2200 metri, dalla quale entro l'estate del 2024 partirà il primo volo. Un nuovo importante tassello per l'aeroporto Salerno Costa da Malfi, il secondo scalo della Campania e uno dei più importanti termini all'aeroportuale di tutto il mezzogiorno. Un investimento di 250 milioni di euro complessivo, 40 milioni dal decreto sblocca Italia, 90 milioni di investimento dalla regione Campania, 120 milioni finanziati da Gesac. I lavori infrastrutturali dello scalo salernitano, che partiranno a fine mese con l'allungamento della pista, consentiranno l'atterraggio e il decollo di aerei commerciali per un'utenza potenziale pari a 5 milioni di passeggeri. A rimarcare il risultato che oggi si raggiunge con questa infrastruttura, questa mattina presso l'aeroporto di Ponte Gagnano, l'onorevole Piero De Luca, Luca Cascone, consigliere e presidente della Quarta Commissione Urbanistica Trasporti e Lavori Pubblici della regione Campania e Felice Casucci, assessore alla semplificazione amministrativa e turismo della regione Campania. Un incontro dove però era assente Gesac, che ha visto la partecipazione dei sindaci ed amministratori del territorio, della presidente del Consorzio Aeroporto di Salerno, Anna Ferrazzano, del presidente della provincia di Salerno, Michele Streanese. Siamo davvero all'inizio di una fase storica, di una vera e propria rivoluzione per il nostro territorio. Dal 31 luglio prenderanno il via i lavori di allungamento della pista fino a 2.000 metri e si avvierà quindi quel processo di sviluppo infrastrutturale di questo aeroporto che porterà alla partenza definitiva e al decollo dei voli, credo inizio 2023. Sapete che l'investimento è enorme, si parla di 250 milioni di euro complessivi, 40 milioni del famoso decreto sblocca Italia messo dal governo Renzi, di cui abbiamo recuperato proprio recentemente la possibilità di utilizzarli fino al 2022. Poi ci sono 90 milioni di euro di investimento della regione Campania e 120 milioni di investimento da parte della GESAC. A questo si affianca un lavoro di infrastrutturazione del territorio perché questo aeroporto non deve essere e non saranno a cattedrale nel deserto. Ci sono 100 milioni di euro destinati all'allungamento della metropolitana di Salerno fin qui all'aeroporto. Col PNRR abbiamo aggiunto altri 60 milioni di euro perché si completi in modo efficace e davvero definitiva questa infrastruttura che diventa decisiva per collegare anche la stazione di Salerno all'aeroporto. C'è poi la necessità di ampliare lo svincolo di collegamento dalla tangenziale, dall'autostrada, dalla strada provinciale qui fino all'aeroporto. Quindi ci sarà un intervento di infrastrutturazione decisivo per consentire a questo aeroporto una piena funzionalità. Gli obiettivi sono immensi perché abbiamo delle proiezioni che portano a un milione e mezzo di passeggeri entro il 2025, 10 milioni nei prossimi 10 anni e 6 milioni nei successivi 10 anni. E sapete che questo avrà un impatto decisivo sull'economia di questo territorio. Di occupazione si parla di un posto ogni mille passeggeri, per cui vuol dire che nei prossimi 10 anni ci saranno più di 3 mila occupati diretti proprio per il settore aeroportuale. Ma a questo si affianca ovviamente uno sviluppo del turismo, uno sviluppo delle attività e servizi circostanti, ristorazione, bar e soprattutto un sostegno forte alle aziende del nostro territorio. Io dico che davvero siamo alla vigilia di una infrastruttura che segnerà il destino di questa terra, come la Salerno-Reggio Calabria, l'autostrada del Sole negli anni 50 e 60 ha collegato il mezzogiorno al resto dell'Italia. Questo aeroporto collegherà il nostro territorio al resto del mondo e darà davvero una possibilità di sviluppo unica, nuova, rivoluzionaria alla nostra terra, ma tutto il mezzogiorno. Grandissima soddisfazione per tutti, non soltanto per il consorzio ma per l'intera regione, anzi per le regioni, visto che si ragiona in termini di aria vasta. È un risultato, è un traguardo fondamentale che abbiamo raggiunto con grandissimo sforzo e anche momenti abbastanza critici che abbiamo dovuto superare. Ce l'abbiamo fatta e questo è un risultato che in termini di area vasta porta beneficio a tanti e tanti territori. L'allungamento della pista significherà avere un maggiore indotto qui nella zona, ma significherà anche potenziare tutte le infrastrutture che condurranno nel territorio salernitano. Assolutamente, anche in questo il consorzio avrà un ruolo di supervisione per tenere anche insieme gli enti consorziati affinché tutti convergano verso una medesima mission che è appunto quella di vedere l'infrastruttura decollare, non a caso, effettivamente. Il ricorso al TAR poi la sfida dei sindaci del comitato ASL. Non si fermano le contestazioni sulle previsioni del nuovo atto aziendale del Moscati Randolfi. L'obiettivo è quello di far fare un passo indietro al governatore De Luca sulla delibera con cui ha riorganizzato l'assistenza sanitaria nei due ospedali. Il sindaco di Solofra Michele Vignola è pronto a depositare il ricorso al TAR e si appresta anche ad impugnare l'atto aziendale. I ricorsi si accoderanno anche il sindaco di Avellino Gianluca Festa e gli altri primi cittadini interessati, oltre ai rappresentanti di associazioni e comitati civici. Giovedì invece si riunirà il comitato dei sindaci ASL che chiariranno definitivamente la loro posizione in merito se pro o contro le scelte di Palazzo Santa Lucia. Il gruppo De Caro, Festa, Petito e Vignola tende inoltre nuove da Roma dopo l'incontro con il ministro Speranza. Intanto però primari, medici e infermieri del Moscati e dell'Andolfi guardano con ottimismo alle scelte aziendali. Il punto di primo soccorso all'Andolfi riuscirà a garantire assistenza alla maggior parte delle persone che si recavano prima al pronto soccorso, la maggior parte codici bianchi e verdi, permettendo anche un primo intervento ai casi gravi prima del trasferimento al Moscati, più attrezzato per le urgenze come accadeva anche prima della nuova organizzazione. L'Andolfi diventerebbe poi centro di riferimento campano per i reparti di fertilità, medicina del lavoro e le riabilitazioni, che include la lungodigenza a settori capaci anche di creare un importante indotto economico alla città della Concia. Le preoccupazioni invece sulla tenuta del pronto soccorso del Moscati, su cui qualche esponente politico sventola fake news su un suo declassamento, trovano risposte nei numeri. Rispetto all'ultimo atto aziendale sono previsti più posti letto, ampliamento della terapia intensiva, che con 22 posti diventa una delle reanimazioni più grandi della Campania, oltre a terapia intensiva postchirurgica da 6 posti, neuroreanimazione da 6 posti e cardioreanimazione da 10 in più, la lungodigenza dell'Andolfi dovrebbe eliminare o quantomeno diminuire il problema dei recovery post primo intervento. Il vero problema resta come sempre la carenza d'organico comune a tutti i nosocomi campani, ma la vera sfida, numeri e programmi alla mano, sembra quella di riuscire ad attuare fino in fondo il nuovo atto aziendale, non quella di contrastarlo. Le foto e le immagini viste sono solo una parte, quelle più raccapriccianti, ce le ha solo la Procura. Così il garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello, in conferenza stampa sui fatti di Santa Maria Capoavetere. Parlano di pestaggi e di depistaggi di Stato, i garanti dei detenuti della Campania. Chiedono di incontrare il capo del DAP e chiedono che gli oltre 30 detenuti vittime delle violenze che in queste ore sono stati trasferite in altre regioni vengano riportati a Santa Maria Capoavetere. Per un anno sono stati a contatto con gli agenti senza che nessuno intervenisse e ora sono stati trasferiti anche di notte e senza spiegazione. Non solo, in conferenza stampa, i garanti territoriali Pietro Ioia di Napoli e Emanuela Belcuore della provincia di Caserta insieme al garante campano Samuele Ciambriello chiedono che vengano ripristinate alcune condizioni del periodo pre-Covid. Ascoltiamoli. Se inizia ad eliminare le mele marce poi diverrà un'azione a catena effetto domino quindi dalle mele marce che stavano lì a malmenare i detenuti e che quindi come dato di fatto insomma si evince dalle telecamere tutto questo da lì poi sono sicura, sono certa che verrà fuori questa reazione a catena e quindi verrà giù tutto un sistema perché non ci dimentichiamo che c'è chi ha malmenato il braccio ma c'è anche la mente, questo in tutte le cose. Si potrebbe dire che questo sistema esisteva, esisteva tanti anni fa adesso da quello che ho visto io e da quello che ho potuto constatare appoggiare soprattutto un carcere che io vado spesso non esiste più però vi voglio dire la maggior parte della polizia penitenziaria è un corpo sano la maggior parte, lavorano e lavorano molto molto in difficoltà Noi abbiamo visto che è il sistema complessivo del carcere che non ha funzionato con la pandemia per questo chiediamo ufficialmente al Ministero della Giustizia all'amministrazione penitenziaria di ascoltarci per verificare insieme a loro il carcere com'è e come invece dovrebbe essere Dopo la pausa dovuta all'emergenza sanitaria dello scorso anno il premio di poesia a Posidonia Pestum torna a calcare il palcoscenico della città dei Templi L'organizzazione del premio, capitanata da Rita Bellelli, diatrice della Kermess e del Lions Club Pestum grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale di Capaccio Pestum ha individuato per la 26esima edizione una location degna del lagone poetico immersa nella storia e nel mito il Tempio di Nettuno nel cuore dell'area archeologica di Pestum durante la serata finale in programma per il prossimo sabato 10 luglio con inizio alle 20 e 30 verranno premiati i poeti partecipanti alle sezioni di poesia edita e inedita in lingua italiana e in vernacolo ma anche poeti giovani under 30 e stranieri di fatti il premio Poseidonia Pestum coniuga la valorizzazione della tradizione del territorio è presente anche un premio per la più bella lirica dedicata a Pestum ad un profilo internazionale che lo pone tra i riconoscimenti più ambiti da letterati e appassionati di poesia da ricordare che la partecipazione al premio è gratuita per tutte le categorie le liriche e vincitrici sono state individuate dalla ormai storica giuria composta da Ermanno Corsi giornalista Rai Giuseppe Funicelli medico chirurgo e poeta presidente del centro permanente per la diffusione della cultura del Lions Club Pestum Alberto Granese ordinario di letteratura italiana dell'università degli studi di Salerno saggista e critico letterario Pasquale De Cristofaro regista teatrale drammaturgo durante la serata condotta dalla professoressa Rita Bellelli e con la direzione musicale del maestro Gianfranco Marra la declamazione delle liriche ad opera di Pasquale De Cristofaro sarà interballata dalla voce di Tiziana Galdieri che canterà alcuni dei brani più famosi del repertorio della musica classica napoletana porteranno il loro saluto il sindaco di Capaccio Pestum Franco Alfieri il presidente della società SPA Convergenze Rosario Pingaro partner organizzativo dell'evento insieme al Lions Club Pestum e al comune il presidente della giuria Ermanno Corsi il presidente del Lions Club Pestum Giuseppe Funicelli e il governatore del distretto Lions 108 Ypsilon a Francesco Accarino Lina Fouca a Castel del Lovo nelle carceri sino al 5 agosto la prima personale a Napoli dell'artista vedo del velo non vedo e a cura di Marina Guida promossa dall'assessorata alla cultura e al turismo del comune di Napoli e con il matronato della fondazione Donna Regina per le arti contemporanee il progetto pensato appositamente per Castel del Lovo vede allestite tre grandi opere in cui il tema cardine e la ricerca che l'artista persegue da tempo sul concetto di alterità o meglio sulla conoscenza di noi stessi attraverso la relazione e l'incontro con l'altro nel video vedo nel velo non vedo che dal titolo all'esposizione è analizzato l'incontro fra due mondi e due modi di percepire e raccontare il corpo. Il secondo lavoro dal titolo 1x3 uguale 7 è composto da 5 schermi contenenti ciascuno tre video disposti uno sopra l'altro come tre sequenze narrative. Non bastano un milione di passi e la terza installazione mostra si tratta dell'evoluzione di un gruppo di opere che l'artista ha realizzato al termine di una residenza artistica a Cuba nell'estate del 2016. Inviata nell'isola dalla fondazione Merz, Lina Fucà spostandosi in diverse località entra in relazione con molte persone alle quali affida delle macchine fotografiche usa e getta chiedendo loro di utilizzarle liberamente. Ascoltiamo l'artista Lina Fucà. Sono tre video installazioni, la seconda video installazione si chiama Non bastano un migliore di passi, poi la terza è 1x3 uguale 7. Questo lavoro ho pensato, queste installazioni pensate per il Castello dell'Ovo sono messe tutte e tre in questo luogo perché tutta la mostra parte da un concetto che è quello della relazione, un po' il titolo della mossa vedo nel velo non vedo e un po' il chiedere di guardare oltre, probabilmente una barriera, il velo concettualmente qualcosa che ti permette di guardare oltre se hai voglia di guardare oltre. Ben trovati da Nico Schiodetto, mercoledì con l'anticiclone africano sull'Italia, in generale un po' tutto il Mediterraneo e centro orientale, temperature di nuovo bollenti sulle aeree interne del centro sud per questa ondata di caldo, dicevo, dal continente africano. Solo restiamo nord-ovest, l'ambito da infiltrazioni di aria un po' più fresca in quota da ovest per una circolazione di bassa pressione tra isole britanniche, paesi bassi e Francia, fuori era di qualche forte temporale. Andiamo alla nuvolosità, cieli sereni o poco nuvolosi, una bella giornata verso il tanto pomeriggio della serata, temporali all'estremo nord-ovest. La prossima grafica ci conferma di fatti qui dei fenomeni temporaleschi localmente forti tra Valle d'Osta e Alto Piemonte. Per quanto riguarda invece il centro sud, condizioni di stabilità ma di grande canicola sulle aree interne del centro Italia potremo toccare anche i 37-38 gradi.